Il risultato sicuramente non è un risultato positivo, non è un risultato in cui speravamo, però io francamente ho poco da dire ai miei giocatori. L'impegno c'è stato, l'attenzione c'è stata, avevo chiesto maggior aggressività, c'è stata, è chiaro che facciamo fatica a fare gol e questo in questo momento è il nostro problema, però non è un problema legato a un giocatore, è la squadra che adesso fa fatica a concretizzare. Come giudica l'impatto dei nuovi arrivati, in particolare quello di Finocchio che ha giocato, sembra abbastanza bene? Ha giocato bene Finocchio, ha giocato bene Memetai, ha giocato bene Dodi, che in pratica era la seconda partita da titolare dall'inizio della stagione, ma le prestazioni individuali, se ci pensate, sono state prestazioni positive, però nonostante la prestazione positiva non riusciamo a raccogliere quello che pensavamo. Ma il problema, io ho poco da chiedere ai giocatori, io ai giocatori ho una sola cosa da chiedere, di continuare a lavorare con passione, con convinzione, sapendo che l'obiettivo è un obiettivo difficile, ma che è alla nostra portata. Io non vedo l'ora che sia martedì per ricominciare. Dopo nove minuti è uscito Fogliazza per infortunio, come sta? Fogliazza sarà da valutare, però oltre a dire che Fogliazza sarà da valutare ed è una preoccupazione in più, sottolineerei anche la buona prestazione di Casarini. Abbiamo fatto buona parte della partita con un 2003-2002 in campo, però anche Casarini si è fatto trovare pronto e questo mi rende veramente contento e fiducioso. Grazie in bocca al lupo.